. La prima ad essere al centro di una ghef da parte di Cirilli è stata Marcella Bella, addetta dell'artista, infatti, lei sarebbe di origini sarde quando invece Marcella viene dalla Sicilia. Ma la battuta peggiore è stata rivolta a Vladimir Luxuria. Al termine della sua bellissima esibizione, nella quale ha imitato Petty Smith, Cirilli ha dichiarato ironicamente, devi solo capire in quale bagno entrare, se quello degli uomini o delle donne, parole che non sono affatto piaciute alla diretta interessata. . La reazione del web.Vladimir Luxuria ha risposto con eleganza alla battuta infelice di Gabriele Cirilli a tale e quale show 2018. Ah, infatti, aggiunto, l'importante è che sia pulito, il resto non mi interessa. . Parole che il web ha approvato con entusiasmo, sottolineando come sia stata l'ex parlamentare ad uscire vincitrice da questo confronto. Tanti i commenti nei social network, contro il comico di cui non si era sentita la mancanza della prima parte del programma condotto da Carlo Conti. . Caffonissimo Cirilli a tale e quale con la battuta del bagno giusto per Vladimir Luxuria, che ha risposto da gran signora qual è, scrive un utente sottolineando come sia stata proprio la scrittrice ad uscire vincitrice da questa battuta, davvero priva di ironia. . E un altro telespettatore del programma ha aggiunto, se questa era una battuta, io non l'ho capita. . Il comico, chiamato a votare l'esibizione dei concorrenti, ha comunque apprezzato l'imitazione dell'ex parlamentare, che ha conquistato la terza posizione nella sua personale classifica. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like. . . Grazie a tutti.